La TAV tra il sì della Lega e il no dei 5 Stelle nel contratto di governo. Ora non si parla più di sospensione dei lavori, ma di ridiscutere il progetto nell'applicazione dell'accordo con la Francia. Ci impegniamo a ridiscutere il progetto TAV e scritto nell'ultima versione del contratto di governo 5 Stelle-Lega. Si è quindi attenuata l'ipotesi di una revisione della Torino-Lione, non si parla più di sospensione dei lavori, non si placano le polemiche. Marzia De Giuli. Il giorno del passo indietro è anche il giorno del dibattito che prosegue, perché è vero che la nuova bozza di accordo di governo 5 Stelle-Lega smorza, dopo il fuoco sollevato ieri, l'ipotesi di revisione della TAV. Non parla più di sospensione lavori, ma di ridiscussione del progetto. Ma è anche vero che la frase va interpretata. Fonti della Lega, che ha sostenuto la linea Torino-Lione, parlano di una concessione al Movimento 5 Stelle per un dialogo su criticità che ritengono improbabili. Per il Movimento 5 Stelle, invece, l'ipotesi di ripensamento del progetto è concreta. Intanto il commissario di governo per la TAV, Foglietta, ribadisce che se l'Italia decidesse di sospendere il progetto esecutivo, dovrebbe restituire i fondi all'Europa e molti, oltre 2 miliardi di euro. Cioè lo stop costerebbe al nostro paese quasi la stessa cifra che spenderebbe per la TAV, 2,8 miliardi. Dall'altra parte, il fronte no TAV, che insiste, il progetto si può fermare perché nessuno degli appalti in completamento riguarda lavori definitivi. Sì, ma sparirebbero appalti da assegnare entro il 2019 per 5,5 miliardi di euro e con essi migliaia di posti di lavoro, tuona l'Unione Industriale di Torino. Sul dibattito interno, preme intanto l'Europa, chi sospende il progetto deve restituire i fondi, il commento del comitato CITAV francese. L'Italia tenga fede agli impegni presi, quello della commissaria europea ai trasporti, Violetta Bultz. Parole condivise da chi in Piemonte, a partire dal presidente della regione Chiamparino, pensa sia una follia fermare un'opera che finalmente dopo 20 anni è stata avviata.